La Sasi interverrà nelle prossime ore per riparare la condotta principale Casoli-Lanciano in cui si è aperta una falla considerevole in località Paduli di Castelfrentano. Il guasto è importante e fa sapere la società di gestione del servizio idrico integrato. Sono 300 i litri al secondo di acqua potabile che vanno persi nel terreno. La condotta serve tutti i comuni del Frentano fino a Ortona. La Sasi ha stabilito di intervenire nel fine settimana per evitare disagi ai cittadini e ancora di più per evitare la chiusura delle scuole nella giornata di lunedì. L'intervento straordinario, assicuralente, sarà svolto in tempi rapidi e senza alcun disagio per gli utenti. La società ha già provveduto ad avvisare il prefetto di Chieti e i circa 30 comuni interessati. La condotta da riparare, dichiara il presidente Domenico Scutti, ha bisogno di interventi importanti che sono stati programmati e che dipendono dall'approvazione del piano d'ambito. L'Assemblea dei Sindaci è stata convocata per domani dal presidente della provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppe Antonio. Con la riforma regionale è stato istituito lato unico. Il presidente della provincia avrà solo un mero ruolo notarile. Il piano d'ambito, aggiunge Scutti nel suo appello ai sindaci, sarà il passaggio fondamentale e consentirà una serie di investimenti che sono indispensabili per migliorare il servizio. L'azienda diventa sempre più efficiente con nuovi orari di lavoro e reperibilità. Scutti, che presiede la Sasi da un anno, si dice sicuro che tutto il lavoro svolto finora, coronato dal piano d'ambito, renderà la società di gestione un modello nel campo della gestione idrica.